Musica Amici miei bentornati ancora una volta qui sul canale Come state fatelo sapere qui sotto nei commenti Oggi video utile soprattutto per chi ha un iPad e vuole prendere appunti con iPad E da quello che ho visto sul gruppo diciamo che questa famiglia si sta allargando no? Quindi mi raccomando un like e nei commenti fatemi sapere come vi state trovando con iPad eccetera eccetera Ho visto un po' di bug ma vabbè raccontatevi tutto qui sotto nei commenti Detto questo oggi video utile perché andiamo a vedere le migliori applicazioni gratuite per prendere appunti con Apple Pencil e ovviamente iPad Quindi ho fatto un bel po' di test, ho diciamo fatto la mia selezione e oggi vi mostro le migliori soluzioni Quindi mi raccomando seguite tutto il video e ovviamente lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti E poi nei commenti ditemi anche la vostra e se avete domande beh sono sempre a vostra completa disposizione Detto questo partiamo con il primo kit che è subito accessibile e gratuito al 100% Il kit di Apple, note di Apple e Freeform So bene che hanno dei limiti però secondo me non vanno sottovalutate in generale perché ovviamente parliamo di Apple Parliamo dell'ecosistema e se siete all'interno di Apple o comunque dell'ecosistema Apple Capire e provare a sfruttare al meglio queste due applicazioni può tornare molto utile Uno per risparmiare, due per sfruttare al meglio sempre l'ecosistema, no? Questo discorso che alla fine non muore praticamente mai Ma perché possono essere interessanti queste due applicazioni prima di andare oltre? Beh ve lo spiego in maniera molto veloce e semplice con 5 punti positivi Uno sono al 100% gratuiti, non avete bisogno di acquisti in Apple, non dovete fare praticamente nulla E neanche dovete installarli perché appena diciamo attivate un iPad le avete già Quindi non dovete fare veramente nulla Due, la sincronizzazione è gratuita e se siete all'interno dell'ecosistema Apple e magari che ne so avete iCloud Plus e così via È un vantaggio, è un qualcosa di molto utile quindi non dovete sottovalutare neanche questo aspetto Tre, le note rapide funzionano che una meraviglia e non c'è forse di meglio Perché? Beh se avete l'iPad spento vi basta prendere l'Apple Pencil, puntare l'Apple Pencil sullo schermo E sentire direttamente le note di Apple Ed è una cosa molto comoda soprattutto se dovete prendere note al volo Il che non è da sottovalutare come non è da sottovalutare la nota al volo La nota veloce che arriva comunque a cui potete accedere direttamente dal bordo In basso a destra con un semplice swipe comoda nel momento in cui siete in altre applicazioni O comunque siete proprio magari su Google, state facendo una ricerca, dovete segnare qualcosa Beh lo potete fare con un semplice swipe senza andare nell'applicazione Proprio diciamo un discorso che ho comunque una funzione Un utilizzo dell'applicazione che solo Apple può fare Non so se è chiaro però secondo me è assolutamente comodo Quattro, lo so che diciamo magari per prendere appunti Avere un foglio vuoto così può essere un po' dispersivo Ma non dovete dimenticarvi la possibilità di aggiungere dei fogli E lo dico perché so o comunque vedo che molti ancora non lo sanno Quindi dovete sapere che se andate nell'app note Attivate un foglio o comunque create una nuova nota In alto a destra potete scegliere se utilizzare un foglio a quadrette, righe eccetera eccetera Il che è utilissimo per mantenere un ordine e avere una specie di foglio infinito digitale Sempre le note di Apple senza dimenticarci poi la possibilità di alternare in maniera molto comoda Le note scritte con tastiera con quelle a penna Non come in altre applicazioni che dopo vedremo Però comunque è possibile e quindi potete anche diciamo valutare questo utilizzo Senza contare che io all'interno del kit vi ho messo anche Freeform Non tanto per prendere appunti, non la utilizzerei mai io per prendere appunti Ma per diciamo le mappe concettuali Utilissime secondo me non solo per studiare proprio per la scuola Ma anche proprio per diciamo elaborare magari un pensiero o un qualcosa Con queste due applicazioni riuscite a fare veramente di tutto Ma se vogliamo uscire già fuori dall'ecosistema E vogliamo qualcosa di gratuito e magari accessibile praticamente ovunque Quindi penso a Windows, penso ad Android e tutto quello che vi pare Beh ragazzi la soluzione migliore resta ancora OneNote È un'applicazione particolare ma è gratuita e molto molto efficace secondo me Una delle mie preferite in assoluto Vi permette di lavorare in maniera ordinata E vi permette di avere tutti gli strumenti di cui effettivamente avete bisogno Potete scrivere a penna, potete scrivere con la tastiera Potete fare tutto quello che vi pare E anche in questo caso, non so se lo sapete Ne abbiamo parlato anche in un altro video Avete la possibilità di aggiungere dei fogli O comunque uno stile, quindi quadrette, righe Potete fare tutto quello che vi pare E quindi anche in questo caso potete mantenere un certo ordine Come potete anche prendere appunti direttamente In maniera forse più efficace rispetto ad altre Visto anche al sistema diciamo modulare di presa di appunti di OneNote Vi ripeto se volete approfondire ci sono i video qui sul canale Ma comunque visto questo sistema modulare È anche fantastico proprio andare a Che ne so Lavorare proprio sugli appunti che magari avete preso con la tastiera Quindi iscrivete un testo, siete all'università Siete dove siete, dove volete E vi mettete a scrivere qualcosa Nel momento in cui volete evidenziare qualcosa con la Pencil Volete leggere il tutto in maniera comoda E poi utilizzare appunto l'Apple Pencil Potete farlo senza problemi Funziona che una meraviglia Quindi non sottolotate questa possibilità E contate anche che se non avete un iPad OneNote potete utilizzarla anche magari su un Surface O un tablet con un uomo Se si penna Funziona che è una meraviglia E ha le stesse funzioni Quindi questa diciamo adattabilità a 360 gradi Non va assolutamente diciamo dimenticata Detto questo andiamo verso l'App Quaderno L'App che vi permette di avere praticamente un quaderno digitale E soprattutto l'App che vi permette di fare questo in maniera gratuita Quella che forse conoscerete se mi seguite già da un po' O meglio con la Note Ragazzi so che alcuni magari hanno visto qualche piccolo bug ogni tanto eccetera eccetera Però dategli una chance Perché migliora giorno dopo giorno Cioè ogni tot viene aggiornata Vengono diciamo risolti un bel po' di bug E attualmente secondo me è veramente super equilibrata E non riesco a trovargli troppi problemi Anzi è un'applicazione efficace che funziona bene E che continua a migliorarsi Quindi anche qui non dovete sottolotare la sincronizzazione Potete scannerizzare determinate pagine Comodissimo al lato studio Potete prendere appunto ovviamente a penna Potete alternare tastiere e penna Potete scegliere il foglio che volete Creare i quaderni Creare cartelle Aggiungere delle note rapide Anche se il ragionamento delle note rapide ragazzi Come funziona con le note di Apple Non funziona con nessuna altra applicazione Potete fare tutto quello che vi pare E in maniera anche molto molto comoda E appunto efficace Ci sono diversi strumenti E ha anche strumenti che in altre applicazioni magari non ci sono Penso al righello Penso al puntatore laser Che vi permette di portare il segno direttamente con la pencil Senza andare poi a scrivere Appunto comunque Andare a modificare la nota E ci sono poi altri strumenti Che bazzicando un po' nell'applicazione Andando un po' alla scoperta dell'applicazione Andrete poi a scoprire effettivamente E sono anche tutti comodi O comunque È giusto averli No è sempre qualcosa in più Se poi pensate che è pure gratis È praticamente perfetta Quindi se volete proprio un quaderno digitale E magari poi utilizzare a parte un'app Per prendere appunti con la tastiera Penso a Notion Penso a Evernote Penso alle note di Apple Bene questa è l'app che fa per voi Vi create le vostre cartelle Per materia I vostri quaderni Per materia E fate tutto quello che vi pare E PS Potete modificare anche in questo caso I PDF Che diciamo Sono comodi O comunque è interessante Tra le mie scoperte Tra le mie ricerche però Diciamo Mentre appunto testavo le varie applicazioni Ho scoperto un'applicazione E ho provato in maniera un attimino più approfondita Un'applicazione che Potrebbe essere veramente comoda Soprattutto per il rapporto qualità-prezzo Partire dal fatto che si può utilizzare Già di base In maniera completamente gratuita Vi parlo di Noteful Comunque Stavo quasi per dimenticare Partire dal fatto che si può utilizzare Appunto in maniera gratuita E potete provarla senza alcun problemi Ha tutti gli strumenti Di cui avete bisogno Potete anche registrare l'audio Questo se non sbaglio Anche con la Note Ma comunque Potete registrare l'audio Prendere appunti Aggiungere immagini Poi Parliamo di app per prendere appunti Quindi Più o meno siamo lì Con le funzioni In questo caso mi piace Magari in più La gestione dei tag Proprio l'ordine Che vi permette di avere l'applicazione Però poi per il resto È simile a tutte le altre Ma è comoda Perché appunto Costa poco Costa 5 euro Se non sbaglio 5 euro e 99 Per sbloccare praticamente tutto Quindi sincronizzazione Tutti i fogli che volete Tutti i guaderni che volete Praticamente La qualunque E poi In questo caso L'acquistate una volta Ed è per sempre vostro Non dovete stare sotto abbonamenti Eccetera eccetera Quindi Cercate la migliore Completa Anche stabile Carina Utile Proprio piacevole Da utilizzare Beh puntate a questa qui La comprate una volta Ed è per sempre vostra Se volete proprio andare a risparmi O proprio Volete spendere poco Il meno possibile Questa qui secondo me È quella migliore in generale Devo dire che Mi ha dato belle soddisfazioni È bella comoda Pacevole da utilizzare Quindi ve la posso consigliare Ma ovviamente Parlando di app Per prendere appunti Con iPad Non possiamo Non citare I due Le due applicazioni Diciamo Più importanti Notability Ma soprattutto direi Goodnote Allora Io Utilizzo da anni E la mia app Preferita Per prendere appunti È Goodnote L'ho acquistata Una volta È sempre mia Tutto a posto Ma so che Molti continuano ancora A preferire Notability E quindi Potrebbe essere interessante E vi capisco Sotto certi punti di vista Perché Ci sono delle cose Fighe Come per esempio Lavora molto bene Con la gestione In generale Tutte le note Che ci sono All'interno della pagina C'è un elenco Bello comodo Che vi permette Di gestire il tutto Al meglio Funziona veramente In maniera Direi quasi perfetta Con i post-it Cioè nel momento In cui voi Andate ad aggiungere Un post-it All'interno dell'app Mentre lo muovete Tutto il testo I disegni Tutto quello che avete Tutti gli appunti Ecco appunto Si muovono In base A dove andate A posizionare In maniera intelligente Il vostro La vostra Il vostro post-it Ed è una cosa Molto comoda Molto carina E quindi ci sta Senza contare poi Tutte le altre Diciamo funzioni Eccetera eccetera Bella stabile Non da problemi Però diciamo che Non è proprio La mia preferita Perché sotto Certi punti di vista È anche un po' Troppo complicata Non mi piace poi Troppo la gestione Eccetera eccetera E soprattutto Potete provarla Perché in maniera Graduita Ve la farò provare Però se volete Poi sbloccare tutto Dovete stare Sotto abbonamento E diciamo che Se posso evitare Gli abbonamenti Io preferisco evitare Ed è per questo Che poi ho acquistato Goodnote Goodnote Costicchia Se così possiamo dire Costa leggermente di più Rispetto a Noteful Però se potete Se vi va Io vi consiglio Comunque di Comprare quella Perché Vero che costa 10,99€ Però una volta comprata È per sempre vostra E poi è stabile Comoda Piacevole E ha un sacco Di chicchettine Oltre a tutte le altre Che già abbiamo visto Mi piace molto Il sistema di Diciamo Organizzazione All'interno dell'applicazione E poi In più Vi metto A che in questo caso Potete utilizzare Le flashcard O comunque potete Creare delle flashcard Per ripetere Eccetera eccetera La modifica Dei pdf Secondo me è perfetta E io ragazzi Ormai la utilizzo Da anni E non posso Che consigliarvela Visto che è la mia Applicazione principale Per quanto riguarda Appunto Questa tipologia Di appunti Senza contare Che poi mi sono creato I miei template Trovate i video Sul canale Quindi L'ho fatta mia Ormai E non riesco A cambiare Ecco Poi fatemi sapere La vostra Se poi conoscete Anche altre applicazioni Ditemelo qui sotto Nei commenti Ma arrivati a questo punto Ragazzi Io vi ho mostrato Tutte le app Più interessanti E secondo me Più efficaci E utili Per prendere appunti Con ipad Gratis E in parte Detto questo Ci vediamo al prossimo Per cui sul canale Per un nuovo video Mi raccomando nei commenti Fatemi sapere cosa ne pensate Per oggi è tutto Ciao a tutti